questa è la seconda parte del precedente video nel quale ho parlato della descrizione fisica comportamentale psicologica e socio culturale avevo purtroppo volontariamente entrato mio figlio nella stanza nel tentativo di mettere in pausa ho sbagliato e ho stoppato il video quindi adesso sto registrando il seguito della precedente lezione ok ragazzi questa è la seconda parte stavo dicendo che possiamo trasformare la descrizione oggettiva della borsa marrone di pagina 297 in una descrizione soggettiva quindi arricchendola di pareri personali di di paragoni di aggettivi di giudizi che io esprimo sull'oggetto che descrivo quindi la descrizione che poco fa ho descritto oggettiva della borsa potrebbe diventare soggettiva in questo modo si tratta di una capiente borsa da donna e potremmo aggiungere di una capiente borsa da donna molto giovanile quindi aggiungo già un aggettivo che esprime mio parere in ecopelle marrone a fiori dotata di un lungo e pratico manico che consente di portarla agevolmente sia a mano sia a tracolla i graziosi lacci ai lati della borsa servono a stringerla allargarla a piacimento è davvero un ottimo acquisto punto esclamativo le copelle lavorata a trapunta qui raffigura dei bei fiori di un con un arabesco che decora e arricchisce l'immagine della borsa quindi vedete cosa sto facendo sto trasformando una descrizione oggettiva che si limitava a descrivere l'oggetto così com'è fornendo solo dei dati di fatto in una in una descrizione soggettiva prendiamo adesso pagina 298 del vostro libro e vediamo leggiamo la definizione di descrizione soggettiva e qua la descrizione è soggettiva quando l'autore presenta l'oggetto della sua descrizione attraverso le sue impressioni sensazioni opinioni dando così una propria personale interpretazione della realtà quindi se la descrizione oggettiva ha lo scopo solo di fornire delle informazioni relative a qualcuno o a qualcosa nella descrizione oggettiva che abbiamo letto lo scopo abbiamo solo tratto delle informazioni su quella borsa quando io faccio una descrizione soggettiva nella quale metto il mio parere personale come vedo io quella cosa la descrivo mettendoci i miei sentimenti ecco allora che non è più un testo informativo non mi voglio limitare a fornire delle informazioni sulla cosa o sulla persona che descrivo ma sto anche esprimendo le mie emozioni i miei pareri e un testo con uno scopo espressivo espressivo emotivo ricco di aggettivi di pareri personali magari anche di paragoni paragono l'oggetto o la cosa che descrivo a qualcosa come il naso di quell'uomo descritto nella descrizione fisica precedente che era paragonato a una grossa fragola leggiamo adesso questa descrizione soggettiva di pagina 298 il muro tutto crepe che circondava il giardino era un vecchio muro di mattoni che un tempo era stato entonacato ma ormai questa pelle superficiale era verde di muschio tutta piena di bolle di grinze per l'umidità di molti inverni vedete già qua come l'intonaco del muro viene paragonato alla pelle a una pelle piena di grinze come se fosse una pelle invecchiata qua e là l'intonaco si era staccato a grosse falde lasciando scoperte le file di mattoni rosa che sembravano costole un secondo paragone le file di mattoni che si vedono laddove l'intonaco è caduto sono paragonate a delle costole a guardarlo con sufficiente attenzione su quel muro c'era un vero e proprio paesaggio nei punti più umidi i tetti di cento minuscoli funghi rossi gialli e marrone stavano raggruppati l'uno accanto all'altro come villaggi ecco che non si limita a dire che sul muro crescevano dei piccoli funghi ma dice che questi funghi erano raggruppati come se fossero i tetti delle case e come se formassero un villaggio quindi vedete com'è arricchita di impressioni personali e chiaramente una descrizione soggettiva dove il soggetto cioè chi parla ci mette se stesso montagne di muschio color verde bottiglia crescevano in giuffetti simmetrici come se qualcuno li avesse piantati e potati nei punti ombrosi foreste di piccole felci zampillavano dalle crepe ricadendo languidamente come fontanelle verdi cioè tutto il muro così crepato e dove sorgono funghi muschio e piccole felci viene paragonato a un pesa a un paesaggio laddove il muschio rappresenterebbero si e da l'idea ricorda viene paragonato a delle montagne le felci a delle foreste i funghi abbiamo visto a dei villaggi la cima del muro era una landa deserta troppo arida perché potesse viverci qualcosa tranne un po di muschio rugginoso troppo calda per tutto tranne che per i bagni di sole delle libellule bene e abbiamo così concluso la descrizione soggettiva e oggettiva per la prossima volta cioè per venerdì della prossima settimana vi chiedo di studiare pagina 297 il secondo paragrafo e pagina 298 studiate pagina 299 dove trovate una mappa concettuale che riassume le caratteristiche del testo descrittivo che vi ho spiegato nelle precedenti video lezioni in questa poi studiate pagina 300 dove abbiamo letto viene delineata la differenza fra descrizione fisica comportamentale psicologica e socio culturale e poi leggete anche pagina 301 quindi da leggere dove ci sono due a partire dalla foto di un ragazzo ci sono due descrizioni una oggettiva e una sempre dello stesso ragazzo della foto soggettiva con i pareri di chi lo descrive e con questo vi saluto e ci vediamo nella prossima video lezione ciao